ciao a tutti amici io sono franco versa quante volte abbiamo inserito un'immagine un video come in questo caso all'interno di un monitor e il più delle volte abbiamo preso questo monitor con un effetto chroma key dove c'è già il verde sul monitor e noi inseriamo facendo il chroma l'immagine oppure prendiamo questa immagine la croppiamo la rimpiccioliamo e la inseriamo oppure usiamo delle maschere ma nel mio caso non è stato fatto niente di simile come ho fatto questo effetto andiamo a vederlo e scopriamo il nodo magico quindi come avete capito facciamo una new fusion composition la inseriamo in timeline entriamo in fusion ecco qua abbiamo il nostro media out prendiamo quello che è una foto del nostro monitor visualizziamo la sul viewer 1 eccolo qua è una bella pubblicità alla samsung e andiamo a collegare questo all'uscita bene ora prendiamo il nostro bel video visualizziamo lo e lo inseriamo così e adesso cosa facciamo proviamo a mettere un trasform e rimpicciolirlo ma sul monitor del genere sarà veramente impossibile come facciamo a adattarlo forse usando un nodo dv e andiamo sempre a rimpicciolire e cerchiamo di ruotare in qualche maniera no no proprio no ah ho capito stiamo lì come matti a creare una maschera così sul monitor dobbiamo farla molto bene e dopo con questa maschera taglieremo questa immagine no nemmeno questo la cosa è molto più simpatica e ci viene in aiuto il nodo premiamo shift bar spaziatrice e cercate grid world guardate cosa possiamo fare con questa griglia provendo questa immagine del robot vado a inserire questo grid world lo vado a inserire e ora su destination posso deformare i punti di questa griglia vedete cosa sto facendo alla testa del robot se i punti sono pochi su x posso aumentare il numero di punti mix e in y ovviamente i punti in inizio in maniera da poter deformare meglio la parte che desidero il risultato e come vedete è del tutto naturale il nostro robot cammina con la testa deformata possiamo fare un'altra cosa andiamo a spostare il nostro media con l'aiuto di un transform e per dare più forza a questa immagine io voglio sfruttare la regola dei terzi e quindi sposto l'immagine di qua ma questa mia immagine finisce qui e io non la voglio così voglio che riempia lo schermo quindi vado sul grid world posso diminuire anche la griglia in orizzontale vado a selezionare esempio questa parte qui quindi con contro seleziono questi punti qui e per non spostare manualmente col mouse che rischia di far pasticci premo alt shift e uso le frecce da tastiera per allungare questi pixel ovviamente sono facilitato dall'immagine bianca ma guardate non si vede assolutamente niente anche l'ombra è stata stirata e qui ho il mio robot che cammina e l'immagine che riempie lo schermo potevo fare la stessa cosa dietro comunque buoni risultati si ottengono anche se ci sono figure un po sfocate sullo sfondo delle abitazioni non si nota molto lo stiramento e allora avete capito bene cosa possiamo fare con il nostro monitor andiamo nuovamente inserire la nostra foto del monitor attraverso un transform perché questa così vada a riempire tutto il nostro schermo visualizziamo solo questo e vediamo qui ecco qua il nostro bel monitor samsung andiamo a unire la nostra immagine e attraverso il grid varp andremo adattarla al nostro monitor ma non possiamo spostare un numero così eccessivo di punti e allora cosa facciamo andiamo sulle dimensioni orizzontali della griglia e impostiamo a 1 stessa cosa facciamo per la il verticale e lo impostiamo 1 e come vedete ora abbiamo quattro angoli che possiamo posizionare tranquillamente sugli angoli del nostro monitor per vedere bene questa cosa si può fare così prendiamo un nodo prima lo visualizziamo premo 2 e come vedete essendo ancora i controlli sulla griglia cliccando sulla griglia vedo sui bordi senza vedere l'immagine questo mi aiuta a posizionare bene sulla cornice del monitor eccolo qua ma ora direte ok però è dritto allora facciamo così clicchiamo su select selezioniamo un punto e con le maniglie possiamo distorcerlo se vediamo che la nostra linea è troppo segmentata possiamo aumentare la suddivisione la suddivisione può essere aumentata anche forzandola ad esempio a 20 e guardate che bella curva stessa cosa faremo anche dall'altra parte e in un attimo riusciremo a adattare questi punti alla curva del nostro schermo ecco qua se avete bisogno di ulteriori altri punti potremmo dividere ad esempio l'orizzontale non in un punto ma in più punti intermedi vedete si sono formati altri due punti e con questi possiamo riposizionarli in una punta intermedia ma già così avevamo un buon risultato andiamo a vedere il passaggio come l'immagine vera e propria premiamo sul tasto merge visualizziamo questo non serve e voilà il nostro monitor se torniamo con shift 4 alla edit page ecco il risultato se abbiamo bisogno di sfumare i bordi potremo passare ad esempio a un nodo erode di late il grid andiamo a vedere abbiamo questo passiamolo a un nodo beep map che ci trasformerà questa forma in una mappa e poi possiamo passare questo a un blur facciamo così attenzione a passarlo come segnale come input e non come maschera con l'erode di late potremo andare a restringere il campo e con il blur invece possiamo andarlo a sfumare in questa maniera ripassando questa mappa come maschera del merge cosa faremo potremo andare a vedete con l'erode di late rimpicciolire la nostra maschera e con il blur sfumarla un po ovviamente in questo caso potremo andare a riposizionare meglio il nostro segnale sul monitor e ecco qua il risultato ovviamente quando usiamo noi un'immagine di questo tipo non avremo un segnale sotto sul monitor magari sarà un monitor spento bene amici cosa devo dirvi spero che questo tutorial veloce vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo veloce tutorial ciao alla prossima iscriviti al canale youtube di franco aversa e clicca sulla campanella per essere avvisato quando ci sono nuovi video grazie a tutti